Ciao a tutti! In pochi secondi vi dimostrerò il livello incredibile di alcuni sindaci, ovviamente piddini, in questo caso di Tommasi, il sindaco del comune di Verona, che parlando dell'aeroporto di Verona, in particolare delle quote da destinarsi per uno sviluppo futuro, lascia tutti a bocca aperta per il discorso impegnativo. Vorrei ricordare che il sindaco Tommasi, ex giocatore della Roma, è sindaco della coalizione PD e 5 Stelle, quindi una larga coalizione. In quanto capitale è la parte restante come quota, la dicitura tecnica, il valore della quota superiore, visto il valore della quota dell'azione è 22 e il sovrapprezzo che riguarda. Devo ammettere che è stato un discorso veramente interessante, quasi a livello al Disney. E pensate che li paghiamo anche, c'è da ridere ma non c'è da ridere, fior di quattrini. A voi il commento, ciao! Ciao! Ciao!